Buon compleanno a Charles Perrault. Era un uomo molto influente nella corte d'area di Francia, eppure è passato alla storia per le sue... storie per bambini, perché chi entra nell'immaginazione nei ricordi dell'infanzia entra nell'eternità. Vi tratteggio tre storie. Cappuccetto rosso, ovvero bambini, fate attenzione a tutti i lupi, soprattutto quelli col pelo dentro. Barba blu, nelle relazioni, si ha parità, e quindi non si deve nascondere nulla, si devono spiegare i divieti, e se si dice non fare questo senza dire il perché, vuol dire che dietro c'è una stanza con cose molto, molto brutte. Cenerentola, in cui si insegna la pazienza e si insegna nella visione delle sorellastre non trattare male a nessuno, perché poi magari finisce che diventa la moglie del re. Buon compleanno, Monsieur Perrot.